Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento della Rassegna Stampa, occhio ai giornali che a parte la voce insomma tra poco avrà sul nostro touchscreen i tre quotidiani che tutte le mattine prendiamo in esame il Carlino Corriere del Messaggero. Allora subito il santo del giorno vediamo insieme eccolo qua San Vincenzo di Lerino è stato un abate del quinto secolo un santo che secondo il nostro libro dei santi è nato in Belgio da una famiglia nobile il sole è sorto alle 5.33 tramonterà alle 20.37 vediamo adesso il tempo cominciando però subito dai dati aggiornati di questa mattina dalla nostra stazione meteo che è accessibile dal sito internet hoc e la notizia.it vedete la temperatura alle 7.30 del mattino è di 13 gradi quasi 14 gradi con una brezza leggera e il tempo che dalla immagine della webcam eccola qui il tempo si sta liberando delle nuvole quindi sta diventando man mano sempre più chiaro e con appunto il sole infatti avremo anche secondo le previsioni della protezione civile delle marche una progressiva diminuzione della nuvolosità con cielo sereno nel pomeriggio per domani mercoledì non cambia di molto se non per il fatto che appunto le temperature le temperature saranno in lieve aumento il cielo sarà sereno poco nuvoloso così come per giovedì 26 maggio temperatura ancora lieve ulteriore lieve aumento e il cielo che sarà ancora sereno o poco nuvoloso avremo tempo stabile per tutta la settimana allora questa mattina i giornali naturalmente dedicano spazio alla tragedia di fossombrone quel bambino di tre anni che è morto in un incidente stradale mentre era in viaggio seduto sul suo seggiolino insieme alla mamma stavano tornando dal mare ne parlano i tre giornali andiamo a subito a leggere dunque la pagina di fossombrone la pagina di peso urbino del corriere adriatico c'è anche la fotografia anzi due fotografie del piccolo chris del tutto del tutto è il cognome il titolo spunta l'ipotesi del seggiolino difettoso il piccolo chris era ancorato alla seduta sul sedile posteriore ma qualcosa non ha funzionato si si pensa adesso si sta cercando la procura ha sequestrato chiaramente l'automobile adesso un ingegnere cercherà di capire se quel seggiolino sul quale sedeva il piccolo chris era un seggiolino o in regola che era funzionante oppure aveva qualche qualche difetto questo lo stabilirà chiaramente la procura intanto c'è la ricostruzione del di quello che è accaduto c'è l'annuncio dei funerari che ci saranno domani alle 15 nel primo pomeriggio nella chiesa maria ausiliatrice di fossombrone il corteo funebre si muoverà alle 15 dall'obitorio dell'ospedale di fossombrone questa è la pagina del corriere adriatico andiamo sulla pagina invece di del resto del carlino la tragedia di cris tamponamento tragico tutti i perché la procura perizia chiede la perizia sul seggiolino la mamma ed il piccolo stavano tornando a casa dopo il mare in quel tratto di superstrada dove è accaduto l'incidente da due anni c'è un'unica corsia perché ci sono i lavori in corso lo vedremo tra poco e parla il nonno il nonno del piccolo chris al meno dice lui il sollievo che non verrà sottoposto ad autopsia e racconta di una mamma fisicamente che ha solo una costola rotta ma psicologicamente dice al cronista se lo può immaginare come può sentire come può stare una mamma che ha perso da pochi giorni un figlio di appena tre anni quei lavori infiniti al viadotto sul metauro l'anas spiega secondo la tabella di marcia buona parte dell'intervento si concluderà nel mese di giugno l'ente assicura che c'erano tutti i cartelli regolarmente regolamentari per segnalare il cantiere e dunque diciamo che non è certamente colpa del cantiere che però a quell'ora di ritorno dal mare come già accaduto anche nelle precedenti stagioni certamente provoca delle code poi bisogna star lì guardare bene la strada distrarsi il meno possibile perché a volte le distrazioni si pagano e si pagano care e la tragedia di crisi è anche sul messaggero il giallo del seggiolino ecco qua la pagina del giornale romano sciocca fossombrone per la morte del bambino di appena tre anni domani pomeriggio l'addio un violento tamponamento con una dinamica ancora da accertare il piccolo era dietro ha riportato però traumi fatali in particolare al al collo non è chiaro se le cinte di sicurezza abbiano schiacciato il bimbo o se nell'urto sia finito contro il sedile posteriore sulle altre notizie andiamo adesso nella pagina di fano del resto del carlino c'è questa questa presa di posizione del comitato bartolaggi che ogni anno organizza a fano nel campo nel parco dell'ex campo d'aviazione la festa del parco ogni 2 giugno bene questa volta il comitato bartolaggi ha deciso di cancellare questa festa dopo tanti anni per protesta perché cosa protesta protesta perché il comune ha dato 21 ettari all'interno di questo parco ad un'associazione che si occupa un'associazione venatore che si occupa di addestrare i cani da caccia una cosa una scelta che non è piaciuta al comitato bartolaggi che organizza appunto questa festa e allora per protesta ha deciso di cancellarla e di non farla più insorge il comitato appunto niente festa questo è il titolo il 21 giugno era previsto un evento per celebrare il passaggio gratuito dell'area del demanio al comune di fano e questa è la pagina principale poi il resto del carlino fa vedere la fotografia di questa fontana che si è che si è creata una fontana d'acqua in via francesco palazzi ieri sera intorno alle 19.30 questa rottura di una grossa condotta che certamente ha abbassato la pressione dell'acqua in varie zone della città per circa un'oretta poi però i tecnici dell'aset di aset sono intervenuti e hanno sistemato tutto quanto platano invece precipita su una casa siamo sempre sul carlino la pagina di fermignano guardate qui paura a bivio borzaga le porte di fermignano per fortuna non c'è stato insufferito però insomma è caduto questo platano che tra l'altro da sei anni scrive il resto del carlino i residenti chiedono al comune di fermignano di tagliare queste piante ma gli appelli sono seguiti non sono mai seguiti a questo appello i fatti si teme che possa accadere di nuovo con altri platani vedete ce ne sono ce ne sono tanti poi il si parla di un diciottenne fanese dice io ballo con bolle non mi fermo francesco mascia con gli allievi della scuola di danza fanese vagano da dove il sogno è cominciato e lui racconta un po il suo percorso un po suo percorso professionale di crescita insomma è una bella storia quella raccontata questa mattina il 12 giugno sarà franz protagonista di coppelli al teatro della fortuna francesco danza pensate alla scala di milano poi grande successo anche per la città da giocare abbiamo parlato ieri anche nel telegiornale 8.000 addirittura i bambini gli adulti tutti anche così grazie a una bella giornata di sole forse la prima primaverile in tutti i sensi che ha richiamato tanta gente in viale gramsci e poi sul carnevale sotto invece il resto del carino scatta l'ora x venerdì si vota ma c'è l'incognita l'incognita cecchignani convocati i 18 elettori che sono stati eletti per disegnare il presidente ipotesi di dimissioni in blocco probabilmente questo servirà appunto per tornare al voto apriamo adesso invece il Corriere Adriatico la pagina di pesaro eccola qua aria di bilanci la lunga cavalcata di ricci il sindaco prosegue la striscia di lavori e inaugurazioni in vista del consultivo di due anni da sindaco intanto vedete la nuova fioriera al centro di piazzale d'annunzio e sotto l'istituto alberghiero che sarà consolidato e quindi verrà definitivamente risistemato andiamo adesso invece sulla pagina di Fano del Corriere dopo il pasticcio inciucio all'ambito sociale mandolini rinuncia per una probabile conferma a Senigallia via libera a Gian Marchi o Simoncelli oggi riconvocati i sindaci per la scelta di un nuovo coordinatore il ruolo del PD in tutta questa vicenda e malessere il malessere degli altri comuni e poi lui che annuncia prometto la sinergia con Senigallia l'altra pagina di Fano nel parco cani da caccia salta la festa la protesta del comitato Bartolagi contro l'assegnazione di 21 ettari di addestramento all'addestramento venatorio e poi il sindaco dia risposte le chiede polegioni dei fratelli d'Italia chiede turni notturni della polizia municipale e lo sviluppo delle telecamere poi ancora sempre sulla pagina di Fano del Corriere misericordia immagini per il corpo e lo spirito all'esposizione abbinato anche un concorso una mostra che si tiene al Sant'Arcangelo ancora siamo a Mondolfo Loccarini ci riprova 30 anni dopo l'ex sindaco di Mondolfo è il candidato della lista Marotta per una città nuova competenze e risultati c'è questa intervista a questo candidato di 69 anni che di professione fa il medico che però è già stato primo cittadino di Mondolfo dal 1983 alla 1985 e poi attenzione questo è più un monito oltre che una notizia e ve la leggo perché bisogna ricordarselo sempre a Marotta fanno il bagno in mare e gli rubano zaino e soldi una brutta avventura per due giovani di Fabriano è accaduto domenica a due Fabrianesi di 27 29 anni che si trovano in una spiaggia libera molto affollata nel lungomare appunto di Marotta quella di Fano scusate di Senigallia del Corriere invece la pagina è tutta per i rifiuti a peso d'oro per bar e ristoranti sono state stilate le nuove tariffe Tari stangata per far fronte ai 3 milioni spesi per la pulizia della spiaggia che quindi da qualche parte poi devono rientrare chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero cacciatore anche qui con i cani al parco il comitato cancella la festa la giunta consente l'addestramento al campo d'aviazione di Setterpointer per l'attività venatoria e dunque scoppia il caso mentre sulla Carnevalesca c'è tensione alta e il direttivo slitta a venerdì alle ore 21 il direttivo dell'ente Carnevalesca un appuntamento carico ancora di incertezza come ha dichiarato al quotidiano Alfredo Pacassoni promotore dell'omonima lista sotto sull'ambito sociale i sindaci riuniti contro l'impasse e poi c'è da Marotta il progetto dell'outlet che si presenta in assemblea è tutto grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa vi do ancora scusa per la voce che non c'è questa mattina vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a questa sera alle 20 e 30 arrivederci